Salve Dottor Bracconi, quello che le vado a chiedere dopo il suo intervento di questa sera di questo pomeriggio dove lei ha potuto fornire una serie di spunti che gli imprenditori si sono portati via. Qual è il valore aggiunto di una formazione antropologica in ambito aziendale? Il valore aggiunto? Sì. È tutto, non c'è un valore aggiunto, è il valore, la formazione come l'hai chiamata tu antropologica in realtà. Perché? Perché tutto nasce, questa è la nostra vera rivoluzione di Facciamo 31, tutto nasce da un'innovazione che in realtà è un'innovazione conosciuta da 3.000 anni. Quindi sulla possibilità, sulla probabilità, sulla facoltà, sulla volontà di portare alla luce i tesori nascosti che sono dentro la mente di ognuno. Questo ognuno oggi è anche il principale attore delle aziende competitive che si chiama dipendente, che si chiama manager, che si chiama amministratore delegato, che si chiama, chiamatelo come volete, ma comunque rimane sempre un uomo. E nel momento in cui questo uomo rimane con un basso livello cognitivo, metacognitivo, l'output anche dal punto di vista del prodotto sarà conseguente. Miglioriamo la mente delle persone, miglioreremo il business delle organizzazioni. Tutto qua è tutto, quindi la risposta è cosa c'entra tutto.